Sono Paolo Moroni, responsabile degli store di Pesaro di Estra Prometeo. Anche noi abbiamo aderito alla pubblicità di Rossini. Il motivo della mia presenza oggi è perché abbiamo riscontrato un ottimo risultato a livello di feedback per quanto riguarda i clienti. Sono venuti ai nostri store dicendo che appunto avevano visto il nostro passaggio in tv e quindi siamo molto contenti di questa collaborazione.